Per un punto Martin perse la cappa, per un comma di regolamento, non è proseguita in Consiglio Comunale la discussione sulla relazione di metà mandato del sindaco Roberto Gambino. Si sarebbe dovuta raccontare la cronaca degli interventi sulla disfatta di questa amministrazione da parte dell'opposizione e il tessere le lodi dal Movimento 5 Stelle. Qualcosa c'è stato, ma non abbastanza, perché l'opposizione ad un certo punto della seduta, dopo una sospensione, ha abbandonato l'Aula. Una diatriba sull'applicazione pedissequa del regolamento sugli interventi da parte del Presidente del Consiglio, proprio in richiesta di parola del consigliere Totti Petrantoni, al quale è stato detto che non sarebbe potuto intervenire perché aveva già parlato il suo capogruppo Gianluca Bruzzaniti. E nonostante gli sia stata ridata la parola dopo l'intervento del segretario generale Raimondo Liotta, che democristianamente ha voluto interpretare in maniera estensiva il regolamento, nulla da fare. Petrantoni si è ritirato sull'Aventino e dopo un'animatissima riunione dei capigruppo l'opposizione è andata via. Annalisa Petitto aveva parlato della debacle dell'amministrazione sullo sport prima che accadesse il fattaccio. Gianluca Bruzzaniti della sconfitta delle politiche sul centro storico e aveva pure chiesto il rimpasto di giunta. Michele Giarratana, il più acquerrito, aveva detto siete la nullità completa nello sviluppo della città e aveva parlato del mancato parco progetti e dei finanziamenti arrivati molto meno rispetto alle altre città siciliane. Passata così in secondo piano la relazione del sindaco, 70 pagine nelle quali Roberto Gambino ha raccontato l'attività dell'amministrazione stravolta dalla pandemia e di 38 giorni di zona rossa che il sindaco ha definito i più brutti della mia vita. Molto poco istituzionale Gambino nella narrazione a braccio della sua attività, cosa che gli è stata contestata dall'opposizione, il chiamare per nome i consiglieri comunali in uno stile estremamente easy. E se per l'opposizione la pandemia è stata solo la scusa per mascherare le inefficienze, per il sindaco i servizi sociali e l'aiuto a tutti i cittadini in difficoltà, soprattutto all'affiorare delle nuove povertà, è stato uno dei fiori all'occhiello della sua attività. La cronaca avrebbe raccontato anche le risposte e le controdeduzioni, ma la diatriba normativa ha stoppato il confronto politico, del quale dopo due anni la città ha forse più bisogno rispetto alle diatrib su questioni normative.